Dopo le sollecitazioni che si sono succedute a più riprese dai banchi delle opposizioni e dopo mesi di inspiegabile fermo torna in consiglio regionale l'attività legislativa calendarizzate per la seduta di martedì 16 novembre ben cinque leggi tra queste due risultano di particolare interesse poiché vanno a toccare e integrano due materie contigue produzioni agroalimentari e paesaggio entrambe con possibili ricadute di ordine lavorativo la prima firma del consigliere regionale di forza italia armandino degidio riguarda la tutela conservazione e valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà e ceppi autoctoni di interesse agrario e alimentare del territorio molisano si tratta in pratica di un provvedimento legislativo che va a catalogare promuovere sostenere quelle che sono produzioni e varietà tipicamente del territorio valgano come esempi la tintiglia per il vino e la gentile di larino per le olive la legge in questione intende favorire la coltivazione di varietà locali individuando una serie di misure a sostegno degli imprenditori che operano nei rispettivi settori di interesse parente stretta della legge a firma degidio è quella che riporta come prima firma quella della consigliera di fratelli d'italia aida romagnuolo che ha portato all'attenzione dell'aula di palazzo da immo un provvedimento che interviene ai fini della valorizzazione tutela e utilizzo commerciale turistico del trabucco molisano torna quindi in aula una legge che vi era già transitata ma che aveva subito una serie di osservazioni lunari da parte del governo che ne aveva bloccato l'iter di adozione quello che romagnuolo propone in linea con altre realtà ad esempio con la felice esperienza della costa dei trabocchi in abruzzo è un utilizzo sia a scopo turistico che di ristorazione di questi straordinari manufatti unici al mondo per poesia e bellezza di evidenza palmare la possibile ricaduta commerciale e lavorativa di un simile progetto va ricordato che al momento i trabocchi molisani sono due tutti e due malmessi uno un vero e proprio rudere una passerella in pratica entrambi collocati a termoli i piani dell'amministrazione adriatica prevedono la possibilità di attivarne altri quattro oltre due esistenti che andrebbero ripristinati tutto però è fermo per la mancanza di un piano delle spiagge che la regione dovrebbe varare una delle tante cose che restano in sospeso da anni come l'angelo del presepe né in cielo e né in terra intanto domani si comincia dalle leggi speriamo questo sia l'abbrivio per restituire un minimo di dignità ad una legislatura che sta passando tra sbadigli e scrollate di spalle